ah questi giovani ma cos'è di che contro questi giovani come al solito? eh sapessi ciò che ieri mi è venuto a trovare mia nipote angiolina eh si sono preoccupato non sono riuscito a capire che lavoro voglio fare sono preoccupato ho un nome inglese tutto strano di quelli moderni non vorrei che mi diventasse come quella la quella la chi? dai lo sai benissimo chi è quella la quella che ha quella spudorata che ha sposato mio figlio quella falsa falsa come una biscia tua nuora mia nuora? quella la non è mia nuora quella lì è una falsa bugiarda tutta con lei no 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 lascia perdere vabbè andiamo a parlare ma senti una cosa ma tua nipote non va al liceo? al liceo? eh io a 16 anni ce l'avevo già un lavoro hai capito? spedizioniere eh vabbè gli vuoi far già trovare un lavoro a lei che va appena andata a scuola ma vuoi che una città di mare come la nostra uno non ce l'abbia ma dai bebe lascia perdere su vabbè ma perché te la prendi con l'angiolina poverina? eh sì ieri mi si è rivoltata contro hai capito? l'ho chiamata lina e mi ha detto di tutto eh vuole essere chiamata angi 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 certo certo e che lavoro vuole fare che non la puoi chiamare lina? no 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 lei vuole fare un lavoro come si chiama come quello la ecco ecco la community manager eh sono fortemente preoccupato sai oh sì ho paura la community manager sì ho paura che scenda in politica hai capito? ma no Gino community manager è come in campo dell'alimentazione 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 hai capito? è come quando dai da mangiare alla comunità è alla Caritas ecco ci ho meno l'alimentazione l'inglese lascio la mecca e ci capisco bene è brava eh brava la mia lina altruista 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 come di me piaci altruista che poi dico eh per dar da mangiare alla gente eh allora poteva fare l'alberghiero no? scelta accamalava due piatti eh eh senti Beppe ma non potremmo andare sino lì alla Caritas e cosa fa? eh c'è c'è mia nipote no? che lavora lì prendiamo la nave bus e ci andiamo a vedere se ci da qualcosa da mangiare ma questa non ha la caritas eh non è la caritas eh no eh eh sì ah già è l'alberghiero è sì l'alberghiero via andiamo a fare in giro con la navetta bus cosa ti dici? navetta bus vieni vieni decino vieni decino